Sono esasperate le cento famiglie delle sei palazzine del complesso Le Farfalle di Montesilvano che ogni fine settimana restano senza acqua. Una situazione che va avanti da maggio quando una volta saldata la morosità sono iniziati i problemi. I cittadini di Via Senna, Montesilvano del complesso Le Farfalle, come scrive Cinzia Cordesco per il centro e come abbiamo appreso anche noi dalle famiglie interessate sono davvero esasperati. Diverse le chiamate e le richieste all'ACA, il consorzio acquedottistico, ma a quanto pare nulla si muove, ci dice Giuseppe Cellini, amministratore dei condomini. È nulla, è semplice, l'acqua non arriva. Noi non è questione di morosità perché abbiamo avuto tutto a posto, abbiamo fatto delle reclame all'ACA ma con esiti molto molto scarsi. Loro mandano dei tecnici però dopo l'acqua non arriva lo stesso. Arriva molto molto poco e a palazzine alternative. Non è che a tutte le palazzine ma a palazzine alternative e questo è un disagio ancora di più perché uno non sa quali tocco, quali tocco eccetera. Franco Poggiali che è un po' il portavoce diciamo di tutti questi residenti o almeno per forza di cosa lo è. Sì, non si riesce a risolvere forse perché non si vuole risolvere la situazione perché a fronte di tantissime chiamate inventano le scuse più assurde. A mia moglie hanno detto addirittura che hanno abbassato le mandate dell'acqua perché bisogna irrigare i campi quando si sa che per legge i campi non si possono irrigare con l'acqua potabile. Quindi è tutto un rimpallare, siete stati voi, siamo noi, vediamo quello, vediamo quell'altro. Abbiamo visto fare delle manovre al contatore che da quando ci hanno chiuso l'acqua tutto il residence per morosità, che poi la morosità è stata sanata nell'arco di due o tre giorni, è stata sanata e da quel momento tutte le palazzine hanno problemi di approvvigionamento di acqua nel fine settimana. Ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché praticamente l'idraulico accreditato presso le farfalle adesso abita qua. Noi stessi in famiglia viviamo col terrore perché io dico a mia figlia ogni due ore, ogni ora, come mi viene in mente, Martina vai a vedere sotto se entra l'acqua nel serbatoio. Sì, innanzitutto stiamo raccogliendo le firme per fare un esposto alla Procura della Repubblica perché non si possono lasciare 105 famiglie dove ci sono anziani, bambini, animali, donne gravide, non si possono lasciare senza acqua.